La mamma era una donna un po' particolare, per chi non la conosceva era forse un po' aggressiva, cioè era sicuramente aggressiva, però se una persona poi riusciva a entrare nelle sue grazie, ma non ci voleva molto, bastava parlare un po' con lei, si accorgeva che era una donna molto dolce, molto generosa, una donna molto tenace, che riusciva ad arrivare dove voleva arrivare, ma non con dei sotterfugi, una donna molto sincera diceva quello che aveva dentro, se doveva dirti una cosa te la dicevano, non aveva mezzi termini, mezze misure, non era diplomatica però.